Selezione per la più bella del mondo 12 anni di storia per questo concorso che vede la finalissima a Cannes durante il Festival del Cinema Per la vincitrice della sognata fascia, un canale preferenziale per entrare nel mondo della TV, il Mediaset Ma chi sono queste ragazze che si mettono in gioco? A dispetto di chi sostiene che i concorsi di bellezza sono divenuti troppi e non danno sbocchi concreti Tante sono giovanissime, si parte dai 15 anni, sono studentesse, hanno già le idee ben chiare e tanti sogni Sì, ho fatto sia il book sia il corso di portamento e quello di avanzamento Ti piacerebbe fare più modella, attrice? Fotomodella